Nuvoloni all'orizzonte in casa Castellaneta, nelle scorse ore sono giunte le dimissioni in blocco da parte dell'intero consiglio direttivo, il quale ha anche comunicato ai calciatori di interrompere temporaneamente gli allenamenti. Tarquinio e Soci lamentano la totale assenza di aiuti e supporti da parte delle istituzioni e degli sponsor locali, ragion per cui, a loro detta, non vi sarebbero più le condizioni per proseguire nel percorso. Una situazione particolarmente complessa che potrebbe avere risvolti non indifferenti. Domenica è in programma la difficile trasferta di maglie, ma a questo punto non è così scontato che la stessa abbia luogo. Il regolamento in merito asserisce che dopo tre rinunce consecutive a scendere in campo, la squadra venga radiata dal torneo d'appartenenza. Intanto l'ex presidente Gino Montella ha assunto il ruolo direttore generale del Sant'Antonio Abate, club di eccellenza campana. Grazie a tutti.